Buonasera, sono Pepe Trusso, assessore delegato al turismo e commercio. Con questa serata si chiude il cartellone estivo qui a Falerna. Quest'anno il cartellone estivo è stato abbastanza nutrito. Di questo l'amministrazione comunale ringrazia il gruppo Eventi Falerna. Qua abbiamo il Presidente Raffaele che con grande spirito di sacrificio hanno organizzato moltissime feste. Anche grazie a questo chi è venuto a trascorrere l'estate qui da noi ha avuto delle belle serate. Per l'anno prossimo purtroppo l'amministrazione si era insediata da pochi mesi quindi non abbiamo potuto effettivamente fare molto di più. Per l'anno prossimo contiamo di avere maggiori serate grazie anche all'aiuto di questi ragazzi. Quindi invitiamo tutti coloro che sono stati qui da noi a ritornare a Falerna e come si suol dire non da turisti ma da ospiti. Grazie. Grazie. Grazie.